Sostanzialmente è questo. Noi il 1 aprile, come lavoratori bancari, saremo costretti a gestire un'ondata importante di persone anziane che vanno agli uffici postali a raccogliere la pensione e una parte di loro si regaranno a versare la pensione sui conti correnti delle banche. Allora, noi diciamo a queste persone tenetevi i soldi, aspettate qualche momento perché intanto abbiamo concordato con Abbi che si va in banca soltanto per appuntamento telefonico e poi attraverso la cosiddetta internet on banking si possono fare tutte le operazioni che vengono fatte tradizionalmente allo sportello. Poi abbiamo il banco esterno alle filiali dove possono essere fatti prelevamente, versamente e soprattutto se avete qualche dubbio telefonate perché riceverete sempre una consulenza molto professionale di persone, di colleghi che sono lì pronti a darvi qualunque tipo di risposta. Grazie Siloni, è molto importante queste istruzioni per l'uso, rivolgetevi pure alla Fabi se avete bisogno perché sono cose pratiche, concrete, quotidiane importantissime. E tutte le altre organizzazioni sindacali. Ovviamente, ovviamente, dico Fabi perché c'è lei e tutte le altre organizzazioni generali che rappresentano i bancari italiani. Grazie.